Salve a tutti. Sembra essersi forse definitivamente risolto uno dei contenziosi storici che ha coinvolto per anni il personale precario, ossia quello riguardante il riconoscimento nelle graduatorie del servizio militare, del servizio civile, anche se non prestato in costanza di nomina. Dopo un primo orientamento della giurisprudenza prima del 2010, che alla fine era approdata all'idea secondo cui il servizio militare, il servizio sostitutivo civile, potesse essere valutato anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, purché con il possesso del titolo di studio che consentiva l'accesso alla graduatorie. Dopo il 2010, con l'entrata in vigore del nuovo codice sull'ordinamento militare, il ministero dell'istruzione era tornato alla carica, sostenendo nuovamente che il servizio in questione non potesse essere valutabile se non era prestato in costanza di rapporto di lavoro. E questa posizione del ministero dell'istruzione aveva trovato l'avallo della giurisprudenza amministrativa anche recente, con delle recenti sentenze del 2021 proprio di quest'anno. Il Tardellazio aveva ribadito questo principio, ossia che dopo l'entrata in vigore del codice sull'ordinamento militare, il servizio militare e il servizio civile potessero essere valutati purché prestati in costanza di rapporto di lavoro e sempre con il possesso del titolo di studio. Se non che recentemente, lo scorso 18 novembre, è intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione che ha ribaltato nuovamente il panorama giurisprudenziale. La Corte infatti ha affermato il principio secondo cui il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo civile e il servizio civile obbligatorio vanno sempre valutati in graduatoria anche se non sono stati prestati in costanza di rapporto di impiego, purché la condizione resta ferma, siano stati prestati con il possesso del titolo di studio che consente l'accesso alle graduatorie di riferimento. Quindi sembra essersi risolto con l'intervento della Corte di Cassazione questo contenzioso. Vedremo se l'amministrazione si adeguerà a questa pronuncia. A presto!